Buonasera a tutti, sono Francesco e sono un volontario del CSCM, che è il centro di solidarietà Catanzaro Marina. Faccio parte del progetto Noi Ci Siamo e ho scelto di partecipare a questo progetto per mettermi alla prova con questa esperienza che non avevo mai fatto. Questo progetto mi sta particolarmente interessando, in quanto abbiamo avuto la possibilità di interagire con gli anziani, di farli vivere un'esperienza anche con noi giovani, portandoli fuori, aiutandoli nei gesti comuni, come ad esempio fare la spesa, portandoli in varie parti, ad esempio negli ospedali, e dare comunque supporto e sostegno a persone che magari hanno, potevano avere un po' di difficoltà. Il mio sogno è di riuscire a diventare un musicista.